Edder, Mech, Pallister. Per la ricerca della bambina. Ma io non credo che gli investigatori, questi cacciatori, riescono a trovare. Perché, vedete signori, Cataleia è stata portata via subito e quando purtroppo gli inquirenti sono stati contattati, sono arrivati sul cuoco, già cata appunto da lì. Erano minimo un paio d'ore che era stata portata via. Dunque con un paio d'ore una bambina l'ha capito, è stata trasportata, anche perché in queste due ore le persone, appunto, chi aveva delle responsabilità, non è stato, credo che non sia stato né fermato né controllato. Forse questi cacciatori di Calabria andavano chiamati nella immediatezza del fatto, non dopo oltre tre mesi. Perché dopo oltre tre mesi non credo che riescono con tutto il rispetto, perché io sto parlando con tutto il rispetto appunto di queste persone che appunto vanno alla ricerca di latitanti. Però io credo che ho valido motivo da ritenere che appunto sarà un altro flop perché Cataleia dall'hotel, dall'ex hotel Astro è stata portata via lì in quell'hotel e non c'è più. Tant'è vero che sono ritornato una seconda volta a Noli e ho fatto la radiestesia appunto sul luogo, sull'ex hotel Astro e appunto lì ho chiesto se il corpo di Cataleia era ancora all'interno dell'ex hotel Astro e il pendolino mi ha girato in senso negativo. Dunque io non credo che questi valorosi, io li chiamo valorosi, della battaglione appunto di Calabria riescono a trovare. Perché vedete signori, qui bisogna cercare, bisogna cercare il filo conduttore, ci sono questi cinque indagati, per me in questi cinque indagati ci sono i responsabili, solo che questi responsabili, se ci sono questi responsabili non è che si mettono a dire, a confessare un reato così grave. E le prove, le prove che Cataleia è stata uccita, questi dati oggettivi che mancano purtroppo alla procura della Repubblica di Firenze, questi sono dati oggettivi che non hanno, non potranno mai avere. Di conseguenza, vi ripeto, a Natale, prossimo Natale, ancora la staremo cercando. Questo è quello che io come profano ho detto, ho detto già da parecchi video fa, ho detto che purtroppo non riusciranno neanche a trovare il corpo, ma non perché, proprio per il semplice fatto che gli inquirenti, quando sono arrivati, già appunto Cataleia era stata già fatta sparire dall'ex Hotel Astro. Dunque, queste due o tre ore sono stati determinanti proprio per tutta la faccenda e questi purtroppo sono i risultati. Vi ripeto, non è assolutamente colpa delle forze dell'ordine che si sono impegnati e continuano ad impegnare, ma purtroppo quando loro sono intervenuti, già era troppo tardi, quello l'ho detto già da parecchio tempo che sto dicendo questa cosa e i fatti ad oggi danno ragione alle mie parole. Di nuovo amici, buon proseguimento di serata a voi tutti, da Sensitiva Locchi, di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.